Direi che la testina sarà la sua, sui persa, infatti è stata la conferma. Ormai è facile di giocare qua, è sempre sempre squadra competitiva, è sempre sempre squadra competitiva, il procedimento del bando bellissimo per dare un venuto seguito per il secondo, quindi sapevamo che era dura e oggi è la somma. Noi abbiamo avuto delle buone ragioni e è chiaro che ci teniamo l'interno, perché oggi il Samba oggi sicuramente ha giocato. Qualitazione che sono difficilissime dopo due partite, su cosa deve crescere sarà la tua squadra? Noi abbiamo fatto un certo lavoro collegato alle caratteristiche del fisico e sapevamo già da prima che abbiamo avuto una squadra rapida e veloce negli esterni, che sapevamo che ci sono potenti portare il palleggio come io, ma noi abbiamo avuto caratteristiche diversi, e quindi ragioniamo, 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 ragioniamo. Hai partito gli esterni che è un attore esterno, così, e sa che lo vede attaccato a te anche questa... Sì, per esempio, perché sinceramente ci stavano creando queste difficoltà in campo e quindi ho pensato di mettere da caratteristiche di passare a te come ti ho fatto, non l'ho fatto perché credo che la mia squadra aveva sui limiti e avevano continuato a passare da poco così, ma avremmo, per quanto di tanti poter separare un po' di parte che avevo fatto un anno. Ho visto il centrocampo della squadra di Vestina formato da giocatori albi e i piccoletti della Samba in qualche stagente strappavano e davano fastidio. L'errore era mia... No, no, ha perfettamente ragione, lo sapevamo che prima ci sono caratteristiche fisiche che la Samba in qualche giocatore è che in questo momento di inizio del campionato, con queste temperature, con questi caldi qua, è sempre stato così il calcio, ma i piccoletti rapidi all'inizio vanno in forma prima e in difficoltà. Voi sentate bravi a leggere dietro, oggi è brutto, abbiamo avuto anche delle problematiche di situazione. All'inizio e alla fine. Sì. Dovremmo fare qualcosa di più, sicuramente. Allora no.